Nella frazione di Villa Vaumano a Teramo sono stati avviati i lavori per la realizzazione di un vero e proprio polo scolastico nell'area dove ad oggi è già presente l'istituto comprensivo Falcone Borsellino. In particolare gli interventi riguarderanno la creazione di una sezione primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi. Il trasferimento della scuola materna al piano terra è la realizzazione di un micronido per 8 bambini. La creazione del polo dell'infanzia ha un costo di oltre 700 mila euro provenienti da fondi PNRR e i lavori dovranno essere conclusi in 240 giorni. Abbiamo puntato proprio sulla valorizzazione del polo scolastico complessivo nell'ambito di un percorso che ci consentirà di avere il ciclo completo scolastico proprio qui nell'area di Villa Vaumano. Un'area molto sensibile e soprattutto uno spazio importante di una zona in pieno sviluppo della nostra città. Investimento PNRR che ci consentirà oggi di far partire una giornata di festa per il quartiere, per tutta l'area direi. Appunto il cantiere del polo per l'infanzia che prevederà anche la sezione primavera. Quindi una fascia di nostri utenti, i nostri più piccoli di 2-6 anni che andrà a completare un percorso e un ciclo qui presente. Dai bambini più piccini agli studenti delle scuole secondarie di primo grado l'edificio garantirà in un unico spazio rinnovato e più accessibile un'offerta formativa tutto tondo. Gli interventi previsti tendono anche un miglioramento della didattica, il progetto completo è infatti aule con accesso diretto e giardini protetti, un orto botanico, un percorso sensoriale e un anfiteatro di siepi. Andiamo avanti e andremo avanti in questa direzione nella valorizzazione del patrimonio scolastico che non è solo ovviamente legato alla ricostruzione ma anche agli investimenti sui fondi PNRR e questo è un punto molto importante che ci consentirà appunto di procedere nella direzione della valorizzazione anche degli spazi e delle istituzioni collocate negli spazi più frazionali, diciamo così periferici della nostra città anche per superare il concetto stesso di periferia ma investire soprattutto sul nostro futuro e sui nostri bambini.